Mancavano le vetture sulla linea 4 e chiaramente la gente è esasperata al ritardo e meno all'autista, di cui che l'autista non c'entra niente. Però io voglio far presente alla popolazione, gli autisti li dovete lasciare perdere perché non c'entrano niente. Lei ha subito violenza? Violenza, camicia strappata e chiaramente dopo nel correre 5 ragazzi ho avuto la peggio. Si è fatto male? Si è fatto male all'ostro sacro. E' finito in ospedale? E' finito in ospedale. Ma chi sono stati? Dei ragazzi? Dei ragazzi comuni che io non è che li conosco, non li conosciamo. Ma dove è successo esattamente? Sulla linea 4 tra Valenziano e Ceglie. Beh non è la prima volta che su quella zona accadono? Non è su quella zona solamente, su tutte le zone.